Per arrivare a me, di Cristina Spagnuolo Dedicato alla me bambina, ingenua e sognatrice, alla me di dieci anni fa, che ancora non conoscevo e che avrei voluto proteggere dalle cattiverie delle persone più che del mondo, alla me di oggi, che dopo ogni caduta ha saputo rialzarsi da sola. Capitolo 1 Mi chiedo a volte come potrebbe essere la mia vita fra dieci anni. In dieci anni può cambiare tutto o niente. Tra dieci anni non so dove sarò. Se avrò combinato qualcosa di buono nella mia vita, se avrò realizzato tutti i miei sogni. 11 settembre 2012 Ho un po' di paura di iniziare perché la regola è che di solito chi scrive un libro è bravo a scrivere, giusto? Ci ho messo tanto ad essere qui con le mie parole e le mie emozioni, a scavare nel passato e a riviverlo con voi, a riportare in vita stralci virgolettati dei miei pensieri ritrovati in un hard disk di più di dodici anni fa. Non è facile denudarsi ed essere totalmente esposti e poi... Basta, altrimenti non la finisco più e va a finire che ci ripenso, pigra come sono. Da che ho memoria, e ce ne vuole, ho sempre pensato di non essere abbastanza. Abbastanza bella, abbastanza alta, abbastanza magra, abbastanza per avere anche io un fidanzato o per stare in mezzo agli altri. Vi è mai capitato di sentirvi così? Le persone che ho incontrato sulla mia strada mi hanno etichettato quasi sempre con frasi e aggettivi dispregiativi, tanto da farmi convincere nel tempo di essere così e di non valere niente. Se potessi tornare indietro mi darei, e gli darei, certi schiaffi. «Sei cessa» era l'insulto che ricevevo più spesso, ma a ferirmi più di tutto, più delle occhiatacce o delle spintonate, era l'indifferenza. Il venire scelta per ultima pallavolo, il non essere invitata alle feste o alle uscite in comitiva, il non essere scelta come compagna di banco e ritrovarmi a passare gli anni scolastici con lo zaino ad occupare la sedia accanto a me. Erano chiare e silenziose dichiarazioni di insignificanza. Ma il coraggio per chiedermi l'euro per la merenda o di copiare i compiti, come ce lo avevano certi scrocconi. Arrivavo sempre in anticipo, ma non facevo in tempo a sedermi, che già mi chiedevano di copiare gli esercizi del giorno. Ma dove si nascondevano? Negli armadietti? Mi sentivo utile e non ho mai detto di no alle loro richieste. Dicono che con il tempo si ha la consapevolezza di quello che si è e di chi si è, a prescindere dall'opinione degli altri. Ma come potevo già saperlo da piccola? Dovrebbero distribuire manuali su come sopravvivere alla vita senza problemi. Sono sicura che andrebbero sold out in pochi secondi. Sapete, ancora oggi ho tanti strascichi del mio passato che a volte mi piombano addosso per un non nulla, facendo crollare per un momento tutte le mie certezze e la mia autostima. Immagini e momenti così nitidi che, per quanto io sia una dimenticona di prima categoria, non scorderò mai. Persone sbagliate, casi umani, scelte errate, tradimenti, doppie facce, false amicizie. Persino una famiglia che avevo idealizzato fin troppo e che è andata in mille pezzi. Non mi sono fatta mancare proprio niente, ve lo assicuro. E a causa di tutto questo ho passato dei periodi molto bui che ho dovuto superare da sola. Chi mi era attorno era ignaro di quello che avevo dentro e non volevo dare un peso inutile ai miei o essere compatita, che è una cosa che non sopporto. Se dovessi decidere preferirei affondare nelle sabbie mobili che chiedere una mano per uscirne. Ero convinta di meditare il peggio del peggio come se nelle mie impostazioni base la voce autostima fosse disattivata. Tipo The Sims, avete presente? E poi dicono che solo quando tocchi il fondo o rimani lì o risali. C'è mancato così poco perché io non tornassi in superficie. E sapete che vi dico? Ringrazio tutti quelli che sono passati per la mia strada e dato che ci sono, gli regalo anche un bel vaffanculo. Così, tanto per gradire. Per arrivare a me la strada è stata così faticosa che anche la mia ombra ad un certo punto ha smesso di seguirmi. Se torno indietro non ho ricordi della mia primissima infanzia se non grazie ai vecchi filmini di famiglia e foto sgranate dove mi vedo immortalata con un caschetto di capelli alla Beatles e dentro ad enormi maglioni infeltriti dai colori sgargianti e con colletti merlettati o fiori stampati sul davanti. Sì, proprio quelli che al primo lavaggio fanno i pallini e pizzicano come se fossero fatti di cotone e peperoncino 100%. Wow, ero proprio alla moda. Grazie mamma. Mio padre lavorava da mattina a sera e sprofondava nelle braccia di Morfeo subito dopo cena. Mia madre era in casa sporadicamente ma non giocava mai con me e sebbene la cercassi sempre non ricevevo mai una risposta positiva del tipo Sì, adesso arrivo o un Va bene, usciamo Dove vorresti andare? Pensava al suo lavoro di sarta e alle faccende domestiche Non sia mai viene qualcuno Che poi questo qualcuno non si è mai fatto vivo Mia sorella Francesca aveva otto anni più di me Era nella fase adolescenziale ed era sempre fuori casa da mattina a sera Lei invece era quella sempre alla moda con i capelli biondo platino le zeppe super alte e il trucco impeccabile La invidiavo moltissimo Ormai era lontano il tempo in cui imitavamo le espressioni dei poster degli Hanson o in cui ascoltavamo le Spice Girls insieme cercando di capire chi delle cinque cantasse in quel momento Ero affascinata da quell'enorme radio rettangolare grigia da dove uscivano voci e suoni astratti che mi risuonavano in testa per giorni aspettando ore per registrare la canzone del momento premendo rec e tenerla con me Giocavo da sola e non mi dispiaceva per niente perché voleva dire che avevo la camera a disposizione e tutti i vecchi giochi di mia sorella per me C'era qualsiasi cosa di Barbie si potesse immaginare Quelle piccole persone di plastica mi guardavano sorridenti e rassicuranti come dire la vita è perfetta andrà tutto bene ed erano la mia unica compagnia Inscenavo storie d'amore fra principi e principesse a volte inserendo a caso anche le guerriere sailor sempre di mia sorella che erano da collezione e quindi intoccabili Ad oggi sailor moon è l'unica superstite a cui però mancano una gamba e guanti colpa mia lo ammetto Così passavo le giornate ascoltando gli Heifel 65 leggendo i libri game o l'uscita mensile di Witch e fra una puntata di Kiss Milicia e la posta di Sonia accompagnate rigorosamente da pane e nutella e un bel bicchierone di latte mi creavo un mondo tutto mio rintanata nella poltrona di pelle marrone di mio nonno talmente grande che ci sprofondavo dentro come se fosse un abbraccio perdendomi nelle avventure di un ragazzino che voleva catturare tutti i Pokémon sempre più frizzanti magici e sgargianti o nel mondo di magica Doremi Avevo anche scoperto la passione per il disegno grazie ad un regalo dei miei zii un pomeriggio durante il pranzo di Natale del lontano 1997 vi prego ditemi che non sono l'unica ad essersi seduta a tavola a mezzogiorno e accorgersi che alle 4 si era ancora al secondo siete lì su una delle sedie scomodissime in noce abbinate ad un tavolo in noce addobbato a festa e pieno di parenti che non avete mai visto o di cui non vi ricordate assolutamente e li sentite parlare di argomenti incomprensibili quando il vostro unico desiderio è quello di scappare via fu il disegno a salvarmi dalla noia e quel Natale ricevetti una scatola rettangolare e sottile di latta si apriva come fosse un libro e improvvisamente mi ritrovai davanti agli occhi un arcobaleno di colori molti neanche li avevo mai visti era un set fabelcastle da 120 matite posizionate cromaticamente e perfettamente allineate passai le ore successive a pastrocchiare un non so quanti fogli e da quel giorno non mi fermai più le elementari furono abbastanza tranquille anche se il mio cuore era già tormentato da un bimbo che avevo conosciuto all'asilo e di cui avevo una cotta gigantesca che durò udite udite sette lunghi anni fino alla quarta elementare ovviamente il mai una gioia era già in agguato non siamo mai stati in classe insieme lui era di un anno più piccolo e ogni giorno all'uscita da scuola lo cercavo con gli occhi fra la moltitudine di genitori che venivano a prendere i loro pargoletti quando lo trovavo individuandolo fra tutte quelle facce strane lo chiamavo e lui mi sorrideva tea hand fine della storia d'amore mi svegliavo la mattina sognando di vederlo e se all'uscita non riusciva ad incrociarlo o se non veniva a scuola per me era la fine del mondo non mi sono fatta mancare niente avevo anche una rivale all'asilo si chiamava Giulia me la ricordo ancora capelli biondi corti e riccissimi e che ve lo dico a fare antipatica fino all'ultima doppia punta si possono avere le doppie punte a cinque anni ogni giorno facevamo a gara per sederci accanto a lui e prima di uscire da scuola gli davamo un bacio sulla guancia e ci guardavamo con aria di guerra e giuro che è vero a pensarci eravamo la perfetta interpretazione vivente di rancy la strega dove Giulia era la perfida alisa paul era il bellissimo ragazzo conteso fra le due e io ero la protagonista che nel cartone si mette con il suo amato solo nel cartone mi sembra ovvio non gli ho mai detto nulla se non con i miei occhi a cuoricino e il mio sorriso impacciato ma chissà che espressione inquietante dovevo avere pensate che scema mi bastava una sola occhiata ed ero felice come se avessi vinto un mucchio di caramelle edizione limitata fra i filmini di famiglia ho ancora la recita dove lui accanto a me ed io invece di cantare passo tutto il tempo a guardarlo anzi fissarlo a due centimetri dal suo viso completamente imbambolata mentre lui neanche mi calcola ero già timidissima e mi ricordo ancora di quella volta in cui lo incontrai per strada mentre le nostre mamme dialogavano amabilmente sapevano entrambe del mio folle amore per lui e sghignazzavano complici custodi di quel segreto che sembrava di primissima importanza a mantenere io me ne stavo impalata a fissarlo tanto per cambiare e a non dire niente con due chiazze rosse sulle guance e le gambe tremolanti ah e con un outfit sempre alla moda certo non potevo pretendere che nascesse un amore alla Romeo e Giulietta otto anni anche perché ero troppo giovane per un amore folle e destinato letteralmente a morire ma per me era bellissimo con quei capelli neri e con il nasino all'insù naturalmente solo dopo anni ed anni ho saputo che ad un certo punto anche lui mi trovava carina fermi tutti c'è stato un momento in cui i nostri cuori erano sincronizzati e io non lo sapevo immaginate la mia faccia in quell'esatto momento in cui la mia speranza di bambina si era spenta insieme a quella notizia quello fu il preludio della mia vita sentimentale che avrebbe contato una moltitudine di casi umani esperienze traumatiche e imbarazzanti friendzone e chi più ne ha più ne metta ma avete presente la frase a volte ritornano con molta calma eh ma è tornato ti è piaciuto il video allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie grazie a tutti grazie a tutti